Buongiorno a tutti, sono Loris Buda e sono un odioprotesista. Mi occupo di prevenzione e disabilitazione uditiva per mezzo di strumenti diagnostici e di apparecchi acustici. Se siete interessati alla mia storia, vi invito ad acquistare martedì 22 novembre l'edizione della Voce oppure la sua versione online. Ciao a tutti!